bene a tutti i baciati qui d'arkulf e oggi siamo delle cose nuove ve lo dirò che è in fretta non ho ancora iniziato ma l'ho fatta l'idea di solito avrei valutato una parte arriva al cento ragazzi non so se ho un video che o faccio un video unico di al massimo 14 minuti o altri minuti se mi metti sempre devo uscire e fino a domani non uscirò il mio video ed è già passato è stato un minuto che mi ripeto non faccio i miei labbri perchè il ragazzi è del lag dovuto al pochissimo spazio sul dispositivo mio dio è da una vita in un gioco di sciogliano ma che sono non 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 Sto registrando State vedendo? Io adesso Sto Sto cliccando Adesso Dobbiamo rientrare Forse sto video qui Chiamerò Non lo so Non lo chiamerò Non lo chiamerò Non lo chiamerò Cliccherò Offerta speciale Come ho fatto prima E mi si chiude 86 Da Cristo Ho scopo un video Che Dio che Dio 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 che Dio che Adesso C'è 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 Voglio io Lo schierri, mio Dio Per l'eserdo Per festeggiare Ci apri un paolo di omaggio Niente di che Ancora avanti Questa è sempre il piccolo Il motore di roba Epica Epica nel paolo Omaggio Oltretutto I primi che non la trovano manco a pagarla Perfetto Chiamo le carte E' come un po' di schierri Allora Sblocco il livello di nuovo Torno di prestigio Gli Dio si sbloccano a livello 8 ragazzi Peccato Va benissimo ragazzi Si voleva già provare a fare i tornei Contopare Utilità di giochi Tornei Poi ci sono i nuovi pauli Posso 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 Ops scusa No ti prego stregone Non fare i coglionati Saccagnata così Se questo 590 Queste non ho dovuto restare Porca vaca Vabbè ho dovuto andarsene Sì Una torre se n'è andata Però perché voglio armi inoltre Ho altre due Questa è una torre se n'è andata Questa è una torre se n'è andata E' una torre se n'è andata Senti zi Ti ridono quanti ti ne pari C'è ancora Ci stiamo facendo raggiungere dal mio amico Kevin Che già in arena 4 Apportunatamente stavolta mi ho fatto entrare E' una torre se n'è andata E' una torre se n'è andata E' una torre se n'è andata E' stata molto azzeccata E' perché ho messo male giù da fuori Allora se quello arrivo in torre E' una torre se n'è andata E' una torre se n'è andata Perfetto mio dio cento nove Mille Mio dio Princidenze Eh si è una torre mostre tutti e due anche se l'ho capito i giants devono andare giù cioè devono andare in terra magari non lui ma quest'altro si vabbè a me non abbiamo perso un trecolone forte ecco ora vi spiego hanno cambiato la texture pack di quando tu vinci una cosa che non hanno ancora ben levato è quando tu perdi i rumorettini finali cioè come per dirti ah ah tu hai perso sfigato di merda e invece vuol dire questo ah ah tu hai perso sfigato di merda minchia vaga perfezione l'operaide hanno protetto magnificamente l'operaide non sbaglio che adesso lo specchio per me hanno potenziato tutto in questo ultimo aggiornamento io potevo andare a vedere anche bene le statistiche che sono cambiate sia dello specchio imparato non sbaglio che sono cambiato non sbaglio che sono cambiato hai perso sfigato di merda che sono cambiata no sbaglio che è stato cambiato hai perso Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.